La storia della Fassa di Moncalvo, beh io l'ho vissuta tutta perché negli anni, fine anni 80, quando a Moncalvo si è presentato un funzionario della Fassa per parlare con l'amministrazione per impiantare in Moncalvo una cava, io mi sono preoccupato, mi sono preoccupato perché viviamo, vivevamo in modo particolare in una zona dove di cave ce n'erano molte e noi qui a Moncalvo avevamo una cava di gesso a cielo aperto, che era una bruttura, era una cosa che non ci piaceva. E allora che fare? Che fare? Noi Fassa non lo conoscevamo, siamo partiti una delegazione di amministratori e siamo andati a Brescia, nel punto più vicino di uno stabilimento Fassa e senza farci riconoscere, senza entrare in stabilimento, ma gironzolando per il paese abbiamo visto come era lo stabilimento Fassa e siamo tornati a casa e il mio sindaco non è venuto, dico al mio sindaco Giovanni Fassa a Moncalvo deve esserci perché abbiamo visto cose fatte con intelligenza, con buon gusto, con un rispetto del territorio, un rispetto dell'area dove si sono impiantati che noi possiamo tranquillamente dire a Fassa che a Moncalvo una cava viene. In modo particolare perché a Moncalvo veniva una cava in galleria, non più in cava a cielo aperto e con una prospettiva di lavorare il gesso direttamente sul posto perché noi eravamo abituati a vedere cavi per cementi con camion in transito nei nostri paesi che perdevano carico, che inquinavano, che facevano polvere e quant'altro. Invece qui ci hanno chiarito che il gesso veniva estratto e lavorato in loco e veniva portato via solo più confezionato. In più il pensare che in una cittadina come Moncalvo con 3.000 abitanti, poco più poco meno, si impiantava uno stabilimento che poteva dare lavoro a 30-40 persone, possiamo fare un rapporto che come avere 2.000-2.500 lavoratori in uno stabilimento nuovo a Torino, pertanto era una ricchezza per questo territorio dove sfruttavamo un materiale che solo qui c'era, non potevamo dire vai a impiantare il tuo stabilimento da un'altra parte perché il gesso è qui e se in questa zona si chiama Frazione e Gessi vuol dire perché qui c'era il gesso da sempre e pertanto siamo andati avanti e abbiamo avuto dei rapporti con questa azienda, con i tecnici ma in modo anche particolare con il proprietario di questa azienda, molto buoni, molto cordiali, ma non solo cordiali ma molto proficui con intelligenza imprenditoriale da parte loro e se mi permettete con una visione da parte di questa amministrazione che vedeva in questo stabilimento un futuro per quest'area e così siamo andati avanti, prima con la cava poi con lo stabilimento e credo che i moncalvesi, quelli che nei dintorni a quei tempi hanno creato dei problemi perché noi come sempre quando c'è qualcosa prima di documentarci parliamo, invece dovremmo imparare a documentarci, a ragionare, a fermarci un momentino e poi magari anche a criticare, ma prima a documentarci perché se non ci si documenta si dicono tante stupidaggini, di stupidaggini a quel tempo ne sono state dette tante, abbiamo avuto dei grossi problemi, però noi testardi come siamo i piemontesi, noi monferrini ed eravamo convinti della nostra scelta perché eravamo convinti e siamo andati avanti e ora quelli che a quel tempo ci hanno criticati o comunque ci hanno reso la vita non facile, sono con noi e sono felici che questa azienda possa continuare a lavorare.